Non dovresti ingozzarti di pillole. La cosa non ti risposta. Beh, lo dici tu, se tratta pure della tua salute, sai. Smettila. Smettila e non cercare di distrarre. Ma troppe medicine fanno male. Dov'è il cric? Il cric. Quale cric? Quando sono entrato, avevo un cric. Dove l'hai nascosto? Perché hai bucato? Non ho bucato. Allora, se proprio vuoi saperlo, quel cric mi serviva per spaccare la testa al signor Pappalardo Michele. Ma cosa vuoi che ne sappia io del tuo cric? Per pazienza, userò questo. E mi guarda, no, che si assenira. Appunto, non ho mai potuto soffrire. Ma se assenira però domani, probabilmente viene sopra il vaso. Devo fontire che le conserveremo i cocci, fammi passare. Ma dove vuoi andare? In camera da letto, mi pare chiaro. Ma chiaro, non ragioniamo. Ragioneremo dopo, adesso ho da fare. Ma perché non chiami l'ufficio? Che penseranno di te? Mene infistico dell'ufficio. Ma, ma davvero tu non hai più fiducia in me? Assolutamente nessuno. Ma che ti hanno detto? Che ti hanno raccontato? E comunque sono tutte calugne, come puoi credere alle chiacchiere della gente? No, cara mia, non sono chiacchiere, non sono calugne, sono prove, sono documenti. Ma quali prove? Quali documenti? Eh, poi li vedrai, adesso fammi passare. Eh, no, 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 tu dici di avere delle prove, dei documenti. E allora avanti, fuori, chi te ne date? Tu. E io proprio tu, tu sogni.